Signori, bentornati in un nuovo video flash. La campagna di raccolta fondi di Keyforge continua a regalare sorprese inaspettate ad ogni traguardo raggiunto e con l'ottenimento dell'obiettivo dei 450 mila dollari, la Ghost Galaxy ha puntato verso l'alto, annunciando due incredibili novità riguardanti il futuro del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo. Qualcosa di sinistro è in arrivo, qualcosa che rimarrà indelebile nelle menti degli abitanti del pianeta al centro dell'universo e tracciato sui libri di storia come uno dei mali più cupi ed oscuri mai affrontati dagli eroi delle casate che popolano il crogiolo. Tutto ciò verrà svelato nel settimo set di Keyforge che prenderà il nome di Grim Reminders, dove una nuova casa, la dodicesima, riverserà sui tavoli da gioco tutta la sua malvagità, accompagnata da una meccanica mai vista prima d'ora. In quel di Roseville, Minnesota, stanno lavorando attivamente per riuscire ad inserire in Winds of Exchange qualche pizzico di malignità che presagirà l'ascesa del male nel settimo set attraverso nuove carte anomalia che faranno la loro comparsa qui e là, testando il terreno per iniziare a costruire le basi su cui erigere un impero di terrore. Ma non finisce qui, perché con il prossimo obiettivo, all'orizzonte si vede già una nuova sfida da affrontare, rappresentata dall'arrivo della terza avventura in solitaria presente in Keyforge, che dopo le battaglie combattute in l'ascesa del Cracchiaven e la cospirazione abissale che vi hanno visti i protagonisti nella lotta contro il culto spaccamondo, vi impegneranno in una nuova avventura. Per saperne di più, la campagna fondi dovrà raggiungere quota 550.000 dollari. Quindi apprestatevi, se ancora non lo avete fatto, a sostenere la campagna di rilancio del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo. Come sempre, in descrizione vi lascerò tutti i link utili del caso. E voi, cosa ne pensate di queste novità annunciate dalla Galaxy? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti e seguitemi se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo. Ah, dimenticavo, non perdetevi il video di domani dove vi mostrerò le mie due personali anteprime a livello mondiale presenti in Winds of Exchange.